È cresciuta la società e nel frattempo sono cresciuti anche un po' gli obiettivi. Quest'anno d'estate si è fatta una squadra che dovrebbe essere sulla carta più competitiva. Si sta lavorando per renderla competitiva. Si riparte e il direttore generale della De Longue Treviso Basket, Giovanni Favaro, non nasconde che le ambizioni sono alte. Dopo che il sogno a promozione è sfumato la scorsa stagione contro la Fortitudo, il sogno del salto in A1 è forte. Dopo le amichevoli per il campionato, domani è già tempo di Supercoppa contro Biella, poi il primo ottobre la prima sfida contro Piacenza. Ma Treviso Basket non è solo gare, è qualcosa di più. Un universo composto ormai da 180 aziende della provincia di Treviso, 130 all'interno del consorzio Universo Treviso, altri 50 che sono sostenitori dell'attività. È un mondo che vive assieme, che fa attività assieme, che sostiene la realtà sportiva, che nel frattempo è cresciuta tantissimo. E poi il grande bacino del settore giovanile, elemento chiave per rafforzare il movimento a Treviso. L'estate scorsa si è raggiunta che questo accordo con la Palla di Treviso, in cui si continua a fare attività a un certo livello con i giorni della cittadina. Questo in questo momento ci porta a 450 anni che fa attività colombiano per presunti maltrattamenti. Intanto la Palla 2 è vicina a Negri, a Fantinelli, da Dezzardo e a Embro. I ragazzi di Coci Pellastrini sono pronti, ma la società resta con i piedi per terra, scaramanzi o meno. L'importante è una cosa che la gente si diverte a base. e dopo qualche giorno però aveva deciso di allontanarsi di propria volontà.